C'è una città custodita dietro i pesanti portoni dei monasteri che racconta molto di se stessa e di coloro che l'hanno abitata nei secoli scorsi. Una città fatta di carta e pergamena che custodisce un tesoro di grande valore che continua a venire alla luce grazie ad appassionati studiosi e lungimiranti finanziatori. E ad esempio l'Aquila del monastero di Sant'Amico, a due passi dalla Fontana Luminosa. Per la prima volta infatti l'archivio storico documentale dell'Istituto di Monache di Clausura si apre al pubblico mettendo a disposizione di studiosi e curiosi, volumi, registri, documenti notarili, incartamenti religiosi e amministrativi che con la forza dell'inchiostro ci aiutano meglio a comprendere gli ultimi sette secoli di storia cittadina. Ad aprirci le porte di questo straordinario patrimonio è l'archivista Alessia Di Stefano che ha recuperato e organizzato i documenti che compongono la raccolta. L'archivio del monastero di Sant'Amico ha un'ampiezza cronologica di conservazione di documenti veramente importante. Il documento più antico risale al 1336 e l'ultimo documento che si può consultare ai fini storici è appunto datato al 1948. Per quanto riguarda i fondi archivistici che si conservano all'interno del monastero possiamo appunto ricordare chiaramente il fondo archivistico del monastero di Sant'Amico ma anche una chicca se vogliamo che è il fondo archivistico del monastero di Santa Lucia, monastero che fu soppresso nel 1908 e le monache quando sono state inserite e portate qui nel monastero di Sant'Amico hanno portato con loro anche l'archivio del loro monastero, della loro casa e questo però in maniera segreta. In tutto tra l'archivio di Sant'Amico e l'archivio di Santa Lucia contiamo 548 unità archivistiche. Non sono sostanzialmente tante, non è un archivio molto molto grande ma quello che conta è che le unità archivistiche che ci sono arrivate fino a oggi sono comunque sia di grande pregio. Abbiamo atti privati dal 1336 oppure registrazioni di eventi particolari, di cronache come appunto la cronaca del terremoto del 703 dove appunto vengono fatte le prime registrazioni con i nomi delle monache che rientrano nel monastero subito dopo il terremoto del 703. Si dà principio dall'anno 1703 in cui sortì il lagrimevol flagello dei terremoti per li quali se ben tutta questa città nandò in rovina, questo monastero però per intercessione della Santissima Vergine restò senza alcun documento e in tal anno 1703 si ritrovarono in questo monastero le seguenti religiose. Quali fondi hanno contribuito a questo lavoro di recupero dell'archivio e poi anche dei dati sul pubblico? Come si può accedere da oggi a questo archivio? Oggi sostanzialmente è stata una giornata molto importante perché grazie al contributo della fondazione Carispac si potrà appunto accedere alla consultazione. Quindi la consultazione però è chiaro che ci troviamo sempre all'interno di una realtà ecclesiastica, monastica dove c'è una clausura papale e di conseguenza non è possibile consultare l'archivio così come succede e capita e si fa negli archivi pubblici, nell'archivio di Stato per esempio. Bisogna accedere tramite una richiesta, inviarla all'indirizzo email archivistorici.ricerca.gmail.com e poi da lì inizierà un carteggio tra appunto me sostanzialmente che avrò la capacità forse di ospitare, di accogliere gli utenti e li guiderò anche nella consultazione. Ed è così che la storia ci affascina, diventa viva e resiste nonostante sia stata scritta su materiali così fragili ma capaci di resistere a calamità, a trasferimenti o al semplice tempo che scorre. Sta a noi coierne la bellezza e dare senso all'opera silenziosa di chi, pur inconsapevolmente, ha fatto sì che frammenti di vite passate giungessero a noi.